Affidato il cantiere alla Vardanega, da oggi parte il countdown per il restauro del ponte a disposizione a 850 giorni. La battaglia di due papà di una bambina nata in America con l'utero e un affitto fa discutere e divide i bassanesi. Impianto Biomassa a 9, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle annuncia, porteremo la questione in regione. Auto in piazza Castello, contro lo sfratto inizia la raccolta firme dei cittadini e la battaglia continua. Ladri gourmet fanno sparire 60 kg di pregiato caviale e sono stati trovati in un magazzino di cassola. L'appello della società Veloce Club, non abbattete il velodromo mercante, rappresenta la storia della nostra città. Grave incidente in mattinata a San Martino di Luperi, auto cappottata, grave la conducente è portata in ospedale. Buonasera telespettatori, oggi 2 marzo 2017, partono gli 850 giorni per il restauro del Ponte Vecchio. Sentite. Stop, fermiamo il contatore. 14 i mesi di ritardo accumulati sul restauro del Ponte Vecchio. Da giovedì 2 marzo 2017, segnatevi questa data, tutto si è a zera. È stato firmato in mattinata il verbale di consegna dei lavori. Parte il countdown. La Vardanega ora ha 850 giorni per ultimare il restauro. La partita sarà chiusa soltanto quando il ponte sarà restaurato, ristrutturato, riconsegnato alla cittadinanza e al mondo nella sua bellezza. Insomma, quindi diciamo che adesso inizia la parte più difficile. E ora viene il difficile. Certo, il percorso fino a questo momento non è stato proprio dei più semplici. Anzi, possiamo dire che è stato un vero calvario. Ora ci si aspetta anche un po' di fortuna. Il Ponte Vecchio la merita, soprattutto dal punto di vista delle condizioni meteo. Un cantiere che rimane comunque complesso, condizionato dal Brenta. Quindi gli imprevisti, se ci saranno, dovremmo in qualche maniera tenerne conto. Se non ci saranno, siamo tutti felici. La parte di lavori sul ponte è un restauro. Quindi sappiamo quello che c'è, ma non lo sappiamo fino in fondo. Molte cose le troveremo aprendo il ponte. La settimana prossima via libera a camion e operai. Ci si rimbocca le maniche, sapendo che per la ditta incaricata, la lancetta dell'orologio scorre veloce. E fa discutere la vicenda di due ghi del Vicentino, che vogliono vedere riconosciuto per entrambi lo status di papà per la loro bimba, nata con la maternità surrogata. Dalla politica c'è chi chiede alla coppia di fermarsi. Io la trovo un'aberrazione, una volontà di onnipotenza, per cui si vuole dire io sono genitore a tutti i costi, anche quando la natura non me lo permetterebbe. Dovremmo continuare con buon senso a dire a queste persone lasciate perdere. L'appello è chiaro, fate un passo indietro. I destinatari due genitori dello stesso sesso che difficilmente accoglieranno l'invito. Viva il papà, certo, ma se i papà sono due, che succede? Risposta a una probabile causa in tribunale, che potrebbe essere la prima di questo tipo in Veneto. A fare da apripista è stata la scorsa settimana la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che per la prima volta nel nostro paese, afferma che due gemelli nati nell'ambito del progetto di genitorialità di una coppia gay, hanno due padri. La battaglia che ora si sposta in Veneto è quella di Andrea e Francesco, coppia da 11 anni che da 10 convive nel Vicentino. Essendo vedata loro per legge l'adozione, nel 2013 sono volati in California per contattare una clinica dove è possibile effettuare la cosiddetta gravidanza per altri. Hanno conosciuto e scelto una donna che potesse fare da madre surrogata e nel 2014 è nata una bimba, la loro bimba, con la quale sono tornata in Italia. Paese però che riconosce soltanto uno dei due come genitori, il padre biologico, Andrea, togliendo a Francesco ogni diritto. I due ora sono decisi a chiedere al comune di residenza la trascrizione di entrambi i papà della piccola, altrimenti si rivolgeranno al loro legale per portare la vicenda davanti a un magistrato. Inevitabile che il caso facesse scoppiare le polemiche e il dibattito, dividendo anche la gente. Io non sono tanto d'accordo. Comunque ognuno la pensa come vuole e il mondo è libero. No, la mamma fa la mamma, il padre fa il padre. Per me è giusto che possano fare come qualsiasi altro, insomma. Privare una di queste due figure della bellezza di avere un figlio, perché c'è una mamma che non ha un bambino, e un bambino della bellezza di avere dei genitori, papà e mamma, questa è veramente una cosa brutta. Il precedente della sentenza di Trento potrebbe pesare in futuro. Cosa accadrà in Veneto lo si vedrà nelle prossime settimane, mentre i sì e i no continuano a intrecciarsi tra cittadini e politica. Ognuno deve fare quello che vuole. No, non sono d'accordo, assolutamente, su questa cosa. Ecco, io credo che siano forzature che pagheremo, e il primo a pagarle sarà quel bambino. Ed ora torniamo a parlare dell'impianto Biomassa di Nove, perché la questione approda in Regione. E ora la questione relativa all'impianto a Biomassa arriva in Regione. Le preoccupazioni dei cittadini di Nove, ma non solo abbiamo sentito che anche a Cartigliano i molti vorrebbero esprimersi sul progetto, verranno portate direttamente sul tavolo dell'assessore regionale all'ambiente, pronta a partire un'interrogazione del gruppo del Movimento 5 Stelle. Stiamo preparando un'interrogazione proprio all'assessorato dell'ambiente per mettere in tutela la qualità dell'aria di tutti i cittadini della zona di Nove, di Cartigliano e ovviamente di tutto il Bassanese. In serata Nove, intanto all'Istituto Comprensivo Cittadino, incontro con Gianni Tamino, biologo ed esperto ambientale, per parlare dei possibili rischi legati alla presenza di un impianto del genere sul territorio. I pentastellati appoggiano l'idea di un referendum. Questa firme che è partita in pochissimi giorni ha raccolto centinaia e centinaia di firme. Questo perché è un problema molto sentito. Quando si parla di salute e quando si parla di ambiente, noi siamo sempre in prima fila. Resta in ballo la possibilità di un ricorso al TAR. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda. I cittadini, anche se ormai il percorso autorizzativo è agli sgoccioli, vogliono provarle tutte per fermare quello che considerano un possibile pericolo. E a Bassano continua la protesta di Piazza Castello. Ieri vi abbiamo raccontato la rabbia dei residenti che dopo il nostro servizio oggi hanno iniziato una raccolta firme contro la pedonalizzazione della piazza. Il castello sotto assedio. A Bassano il comune vuole fare piazza pulita delle auto, ma gli abitanti si ribellano, pagano 258 euro all'anno per un posto e non vogliono andarsene. Oltre al danno la beffa, il dissuasore è rotto, i furbetti si intrufolano e la piazza si riempie di macchine abusive che invece posteggiano pure gratis. Anche oggi il dissuasore non funziona. È da mesi che non funziona. È da mesi che non funziona, però oggi abbiamo un'arma nuova. Abbiamo pronto una petizione da presentare al sindaco e cominceremo a farla firmare da oggi. Anzi, da subito. E allora proprio qui davanti al dissuasore della vergogna parte la petizione. La prima firma. E via via tutte le altre. I 38 residenti che parcheggiano il castello firmano per non andarsene. Spero che non cambiano idea che restiamo dentro il castello. La liberazione della piazza però è un cavallo di battaglia con cui il sindaco ha iniziato il suo mandato. In consiglio comunale Tamara Bizzotto della Lega Nord si è battuta contro questo progetto. Mi hanno detto in consiglio comunale che le macchine degli uffici comunque durante le ore di lavoro rimangono all'interno. Ma allora che senso ha? E allora quali macchine spostano? Spostano quelle dei residenti. E quelle del comune invece? Quelle del comune andranno fuori solo durante i fini settimane oltretutto. E se no rimangono dentro? Se no rimangono dentro. Sindaco, due pesi, due misure. E già, se fosse così la piazza non verrebbe mica liberata dalle auto perché resterebbero quelle del comune. In cambio ai residenti non è stata data un'alternativa e se vivono in centro hanno anche bisogno di un parcheggio vicino a casa altrimenti... Se vogliono portare via le macchine dal castello ci troveremo fra qualche anno con drogati, ubriaconi e chi ne ha più ne metta. In questa maniera ci invitano a sloggiare dal centro storico a vendere le nostre case no, a svendere le nostre case e quindi anche una perdita di valore per i nostri immobili. Questo grazie a questa giunta comunale. E ho problemi anche a camminare. Attenzione, non può andare tanto in giro. Non posso andare tanto in giro. Sindaco, come lui tanti altri non possono andare tanto in giro sono persone anziane e che hanno dei problemi anche a camminare. Esattamente. Esattamente. Ed è finito in carcere per un furto commesso sette anni fa un 33enne Moldavo è stato incastrato dai mozziconi di sigarette che aveva lasciato sul luogo del colpo. Meglio tardi che mai tutto pensava meno che finire in manette per quel doppio furto che forse nemmeno ricordava più lui pluripergiudicato dai mille alias. Ma il 33enne Moldavo Andrei Movileanu ha pagato a caro prezzo la tenacia degli investigatori unita al suo vizio del fumo quelle tre sigarette consumate forse per nervosismo mentre metteva a segno due ride a Romano Dezzelino tre computer, un cellulare e diversi oggetti di valore la ditta Terzer ancora computer, un lettore DVD, una macchina fotografica con tanti attrezzi di lavoro nell'azienda Imet un ride notturno andato in scena il 28 gennaio 2010 sì, proprio 2010, sette anni fa allora i carabinieri di Bassano non si diedero per vinti subito capirono che il modus operandi forzatura violenta delle finestre e tipo di bottino appartenevano allo stesso malvivente e si tacciarono tutta la zona trovando i tre mozziconi reperti a RIS di Parma per le analisi biologiche e responso il ladro fumatore era Andrei schedato pluripergiudicato carico del quale fu emesso un'ordinanza di custodia cautelare nel 2011 peccato che il giovane si fosse volatilizzato trasformandosi in un fantasma un altro ladro a piede libero così devono aver pensato le vittime del ride per sette lunghi anni almeno fino che il 33enne è riapparso stamane all'aeroporto di Treviso deciso a prendere un volo per il suo paese non sapeva che i dati l'ordinanza pendente erano stati diamati da anni a tutte le forze di polizia del territorio nazionale l'uomo è stato così riconosciuto dalla polizia aeroportuale che ha contattato i carabinieri di Bassano cerchio chiuso e manette ai polsi del ladro nemmeno il tempo di un'ultima sigaretta parliamo di un sequestro record gli investigatori del commissariato di Bassano hanno trovato 60 barattoli di caviale rubato 60 kg di caviale si trovano solo alla tavola di uno sceico e invece eccoli qua sono gli investigatori del commissariato di Bassano ad aprire le scatole appena sequestrate un vero record per un valore sul mercato di almeno 60 mila euro le preziose uova di storione erano state rubate alla caviar import di Gardigiano di Scorzè nel veneziano un furto invisibile messo in atto silenziosamente a più riprese pochi mesi fa tra il 15 e il 20 dicembre dell'anno scorso il titolare dell'azienda un iraniano di 55 anni aveva fatto denuncia le indagini sono partite immediatamente fino al 25 febbraio quando la polizia con un blitz assieme all'ULS ha trovato il caviale nel capannone di un'azienda di trasporti di Cassola che muove tonnellate di merce e che è del tutto estranea alla vicenda gli accettamenti eseguiti per adesso che sono anche a buon punto dovevamo concludere nei prossimi giorni l'attività di indagine sembrerebbe appunto evidenziare il non coinvolgimento diretto da parte della direzione dell'azienda ovviamente la prima cosa che hanno fatto gli investigatori è stato risalire ai mittenti della spedizione ma anche ai destinatari crediamo appunto che ci siano più mittenti più destinatari i destinatari che attendevano l'arrivo del caviale sarebbero alcuni ristoranti di tutta Italia adesso la polizia sta cercando altri 20 kg di uova di storione che non sono ancora stati ritrovati la prossima fase di indagini è appunto che involgerà alla conclusione è di evidenziare innanzitutto chi ha ricettato questo quantitativo ingente di caviale e eventualmente anche chi ha rubato il caviale ed è stata operata nel pomeriggio all'ospedale di Padova la bambina di 6 anni di Sant'Orso ostionatasi gravemente mentre giocava con l'accendino i medici però non sciolgono la prognosi le sue condizioni sono stabili ma restano gravi un quadro clinico ancora preoccupante visto che le ustioni di secondo e terzo grado sono estese sul 40% del corpo soprattutto nella zona del torace e della schiena nel pomeriggio un primo intervento chirurgico nel reparto grandi ustionate di Padova per la bimba di 6 anni vittima a Sant'Orso di un gioco trasformato sin dramma tra le mani un accendino lasciato in giro per la casa è finito nelle sue mani con la voglia irresistibile di farlo funzionare fino a che una scintilla non ha intaccato il vestitino della piccola trasformandolo in una torcia accesa pochi secondi di disattenzione sono bastati per far precipitare una giornata come tanti in un incubo i genitori disperati che spengono le fiamme la corsa all'ospedale il trasferimento con l'elissocorso a Padova il fatto che la bimba sia stata ritenuta idonea e pronta per affrontare l'intervento chirurgico è una buona notizia ma i medici non sciolgono per ora la prognosi bisognerà attendere i prossimi giorni per dichiararla fuori pericolo ruba prosciutto e liquori da una pizzeria un marocchino è stato arrestato catturato dagli occhi elettronici delle telecamere di sicurezza il ladro è un pregiudicato marocchino di 38 anni nulla facente musulmano musulmano sì ma intanto ruba prosciutto liquori birre arriva con una con la sua diciamo con una maglietta di colore chiaro forza la porta poi la riappoggia ritorna ritorna con una maglietta di colore nero e vedete dopo esce con dei borsoni successivamente ritorna quindi per un'altra volta ed esce di nuovo con i sacchettoni ecco di colore nero la telecamera di sicurezza lo riprende e il ragazzo senza saperlo è protagonista di questo video che lo incastra sì perché è grazie a queste immagini che gli investigatori oggi lo hanno arrestato con l'accusa di furta gravato sono i particolari del soggetto che inquadrati dalle telecamere si vede bene appunto la maglia si vede bene la stampatura e magari qui si nota meno si riesce anche a notare che c'ha un vistoso tatuaggio sul braccio cosa poi fondamentale anche per l'identificazione del soggetto insomma parliamo del progetto Bassano Stadium oggi è arrivata una richiesta accorata da parte del Veloce Club una richiesta protocollata dal comune in data primo marzo è un appello accorato per salvare il velodromo è stata spedita a sindaco giunta e consiglio dalla società Veloce Club Bassano si legge auspichiamo che l'amministrazione non voglia penalizzare l'attività di una società dilettantistica che riesce a garantire la pratica sportiva a 150 giovani appassionati di ciclismo dai 6 ai 18 anni il presidente del club Michele Cavalera lancia un accorato appello Bassano senza un velodromo sarebbe una città più povera la demolizione del mercante sarebbe un duro colpo non solo per il Veloce Club ma per tutto lo sport italiano ai rappresentanti dell'amministrazione quindi si chiede la preservazione di un capitolo importante della storia della città e l'attivazione di un tavolo di confronto tra le parti il progetto Bassano Stadium quindi ancora prima di partire tra favorevoli e contrari continua a far discutere e oggi la prima delle tre giornate dello sport istituite dalla regione a Bassano tra i tanti eventi un vero e proprio raduno di migliaia di studenti al Pala 2 Qual è lo voto sport preferibile? Palla a volo Karate Palla a mano Palla a volo Go! Dobbiamo perciare C'è bisogno di tutto questo endosiasmo tutto questo calma La prima notizia è che no per i ragazzi non è sempre il calcio lo sport di riferimento la disciplina della propria passione anzi Nessuno vuole fare il calciatore no odio il calcio odio fondamentalmente il calcio Mosche Bianche chissà ci sono anche questi volti e queste voci fra i 2300 ragazzi delle scuole superiori protagonisti di un vero e proprio raduno dall'ITIS Fermi alle classi quinte di tutti gli studenti del Bassanese per uno degli eventi della prima delle tre giornate dello sport ideate dall'assessorato regionale all'istruzione attività in tutti gli spazi dall'asilo all'elementare alle superiori e momenti come quello andato in scena alla pala 2 di Bassano perché parlare di sport fa bene si mette sempre lo sport in secondo piano anche nell'ambito scolastico quindi dargli un peso maggiore a volte serve scoprire discutere anche di temi scottanti come il doping al pala 2 a parlare con i ragazzi c'è Alessandro Donati l'ex tecnico dell'atletica azzurra che ha scoperchiato il calderone delle pratiche illegali e innescato una bomba che sta travolgendo mezza Europa sportiva oltre ad aver seguito in prima persona il controverso caso della squalifica di Alex Schwarz se ne sente parlare sì però se ne sente parlare ancora troppo poco e è giusto che gli studenti quindi fin da giovani si inizia a sapere cosa comporta l'uso di queste sostanze meglio guardare allo sport sano e perché no immaginare una carriera ad alto livello anche se con delle priorità è meglio prima avere delle cose solide su cui progettare un futuro quindi magari pensare a una cosa come gli studi sognare però non è vietato e allora i ragazzi sognano e non smettono di impegnarsi e divertirsi con una parola d'ordine per alcuni viva la verità delle discipline e basta con il monopolio di quel pallone che finisce o non finisce in rete abbasso il calcio secondo me sì incidente a questa mattina a San Martino di Lupari una donna è rimasta ferita e portata al pronto soccorso San Martino di Lupari schianto tra due auto ferita una donna è successo poco prima delle nove in via tombolata vicino al passaggio a livello i vigili del fuoco di Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del 118 nel soccorrere la ferita che si trovava all'interno di una Dacia Duster completamente rovesciata sulla carreggiata la donna è stata portata in ospedale illeso l'altra autista la polizia locale ha effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro probabile che all'origine dello schianto ci sia una manovra avventata le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora un'intossicazione sembra dovuta ad uno spray urticante che ha provocato bruciore agli occhi e alla gola sarebbe questo quello che è avvenuto mercoledì sera alle 22.30 ad una decina di persone clienti di un locale di Ronchi di Villa Franca Padovana immediato sul posto l'intervento dei carabinieri che stanno effettuando le indagini per capire la dinamica dell'intossicazione i militari inoltre durante la perquisizione hanno trovato addosso ad un 19enne di Rubano un coltello con la lama lunga 9 cm il nostro telegiornale quindi sta giugendo al termine vi ricordo l'appuntamento con focus questa sera a partire dalle 21.05 dedicato ai veneti schiacciati dalla crisi quindi anche voi telespettatori potete inviare i vostri sms durante la diretta ora vi lascio le previsioni del tempo vi ringrazio dell'attenzione arrivederci le previsioni per domani da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili schiarite nelle prime ore del mattino a fine giornata cielo molto nuvoloso coperto ovunque precipitazioni in pianura generalmente assenti sulle zone montane probabilità in aumento fino a medio-bassa nel pomeriggio di qualche debolissima precipitazione temperature minime stazionarie o in aumento massime in diminuzione dell'attenzione di qualche della di qualche